Per ora da Bruxelles è tutto, Lina, a voi. E la crisi energetica alimenta la corsa dei prezzi in tutta Europa. Nell'Eurozona l'inflazione segna più 9,1% ad agosto in Italia e all'8,4%, mai così in alto dal dicembre 1985. Sentiamo Barbara Capponi. L'Istat conferma che gas del mercato libero ed energia elettrica continuano a spingere all'insù i prezzi nel nostro paese. L'inflazione ad agosto è arrivata all'8,4%. Corrono in particolare i prezzi del cosiddetto carrello della spesa, beni alimentari per la cura della casa e della persona. Oggi a lanciare l'allarme le imprese del terziario e della distribuzione. Sono a rischio 120.000 imprese, 370.000 posti di lavoro, dietro i quali ci sono anche un grandissimo problema sociale. E oltre il rischio del calo dei consumi che evidentemente poi influirà su quelli che sono i dati di crescita del paese. I supermercati hanno visto aumentare i costi per l'energia in media di oltre il 200% rispetto a un anno fa. Teniamo conto che quasi il 50% del fatturato è fatto da prodotti deperibili e quindi c'è tutta la catena del freddo che non è comprimibile dal punto di vista di costo. Da qui le richieste del settore per contrastare il rischio chiusura delle attività a partire dal prolungamento della rateizzazione delle bollette almeno fino a dicembre. Il primo è l'incremento del credito d'imposta che non può essere al di sotto del 50%. È per tutti, energivori e non energivori. L'altro è un intervento rispetto al fondo di garanzia per quella che è la liquidità che sicuramente sta venendo a mancare. Secondo le stime la bolletta energetica delle aziende del terziario quest'anno ammonterà 33 miliardi di euro, il triplo rispetto al 2021. Una nota positiva arriva dal fronte dei carburanti, l'aumento dei prezzi in questo caso. In agosto rallenta un po', dice l'Istat, anche grazie al taglio delle accise deciso dal governo e che oggi è stato prorogato fino al 5 ottobre. Novità per il dossier ETA Airways per la cessione dell'ex compagnia di Bacchia.